E' stata inaugurata ieri a Salerno la tredicesima edizione di Luci d'Artista. Tema dell'edizione 2018, il mare con le conchiglie in piazza sedile del campo, le meduse tra i vicoli del centro storico e l'omaggio alla costiera amalfitana su corso Vittorio Emanuele. In piazza Flavio Gioia invece è stato realizzato un grande tempio di Poseidone dinnanzi al quale vi è un carro trainato da animali marini e guidato da un babbo natale che impugna un tritone. All'inaugurazione della tredicesima edizione assente per la prima volta il governatore della campagna Vincenzo De Luca, trattenuto a Caserta da impegni istituzionali. Sembra che tutto volga al bello come d'abitudine. Siamo alla tredicesima edizione e non ci sono segni di stanchezza. Anzi, mi pare che c'è una rinnovata attenzione e anche una curiosità particolare perché è cambiato l'installatore e quindi gli ho dato una sbirciatina riservata e mi pare che la scelta è stata all'altezza delle aspettative. Sono 27 chilometri di luminari in tutta la città, uno sforzo eccezionale, una grande intelligenza, una grande prospettiva, una visione lunga. Un grazie al presidente De Luca che ha immaginato intanto questa iniziativa e poi la sostiene come sostiene le iniziative di qualità in tutta la regione Campania. credo che anche quest'anno segneremo una serie di traguardi che ci fanno piacere e ci danno conforto.